laterale, attacca al 30, scarico dentro per il lungo, rischio di infazione di passi, non fischiata, altro di Mazzacco per Bergamo, è Sodero, tra due punti, facili e facili su queste connessioni laterali di Edioa vuole attaccare ancora dentro l'area, ma su, con la moto, due punti facili, facili Penini col pallone, slip da parte di Edioa, che va a appoggiare blocco un po' al limite, bello, altro giro, sua linea di fondo, è gran schiacciata per Sodero carica in qualche modo per Cecchinato, che perde la palla di Edioa, vola in transizione contro i passi, va a schiacciare morbidamente Modelli, palla di Edioa Sodero tripla, importante, ha bersaglio questa pesa palla per Ferrari, per Ferrari per Edioa, peggio qua tre, molto ben fatto e Bergamo, meno tre subito, 100 punti segnati, Sodero in palleggio, step back, tripla, difficilissimo Sodero, con un canestro mostruoso